La Guardia di Finanza di Cosenza ha scoperto una persona che aveva chiesto indebitamente assistenza giudiziaria allo Stato perché in base ad una autocertificazione percepiva redditi per 1.450 euro, riferibili tra l'altro al padre convivente e titolare di una pensione sociale. I successivi accertamenti hanno fatto emergere come il richiedente del gratuito patrocinio fosse titolare di ben tre società con capitale sociale complessivo pari a 170.000 euro ed un volume di affari di oltre 2.300.000 euro. Quale socio unico ed amministratore il soggetto dichiaratosi ora non abbiente nel solo 2014 sostiene e si fa rimborsare spese personali dall'azienda per oltre 130.000 euro attraverso l'utilizzo di 5 conti corrente e 5 carte di credito. Per la falsa dichiarazione reddituale il soggetto è stato denunciato alla Procura della Repubblica e saranno avviate le attività di recupero delle somme indebitamente erogate. Inoltre le previste spese personali sono state segnalate all'Agenzia delle Entrate per i recuperi a tassazione.